Innanzitutto grazie per l'invito, sono molto felice di partecipare a questa bellissima giornata, di aver ascoltato anche degli interventi molto interessanti, tra cui quello della dottoressa Delfante, che conosco molto bene e che fa parte anche della nostra organizzazione. Io sono appunto Michela Romanini, fondatrice di Women in Games Italia, che è l'associazione che si occupa di promuovere l'inclusione di genere nel settore del videogioco, inteso ovviamente come settore del gaming anche su mobile e comprendente anche gli esports, quindi gli esporti elettronici. Condivido adesso la mia presentazione. Perfetto. Siete la presentazione? Ok, sì, la vedo dallo schermo. Allora, partiamo quindi dal contesto. Parlando di gaming, sostenibilità e inclusione, dobbiamo innanzitutto capire perché è importante parlare di questo settore e contestualizzare al mondo del videogioco. Ad oggi sono oltre 3,3 miliardi i videogiocatori nel mondo, quindi si tratta di un numero davvero impressionante, che tra l'altro non caratterizza soltanto i giocatori più giovani, ma racchiude ormai tantissime diverse generazioni, quindi troviamo sia i giovanissimi che moltissime donne, che rappresentano circa il 46% dei giocatori, ma anche persone più grandi, che giocano appunto in famiglia o che hanno scoperto il gaming già da giovani. Le piattaforme di gioco online come Roblox, Fortnite, World of Warcraft hanno visto un grandissimo aumento di utenti, anche a seguito della pandemia, evidenziando quindi un ruolo sempre più importante dei videogiochi come forma di intrattenimento e di socializzazione. Secondo tantissime ricerche, inoltre, sono gli stessi giocatori oggi a voler contribuire attivamente ad alcune cause che possono essere appunto quelle ambientali e sociali attraverso il gaming. Moltissime associazioni, come ad esempio Playing for the Planet, hanno realizzato dei questionari annuali dove si è visto di anno in anno un incremento di questo interesse dei giocatori nel sostenere le cause ambientali, ad esempio, essendo il focus del programma. Andando avanti, appunto, vediamo che il gaming ha un potenziale enorme per coinvolgere i giocatori e per farli partecipare attivamente a queste campagne sociali. I videogiochi, infatti, offrono un ambiente interattivo in cui i videogiocatori possono esplorare appunto la complessità delle sfide ambientali e sociali, prendere delle decisioni e partecipare attivamente, realizzare attivamente un cambiamento e possono portare avanti le loro iniziative. Nella storia, in realtà, troviamo già degli esempi interessanti di videogiochi che hanno parlato di sostenibilità o di cause ambientali. Tra questi vediamo, ad esempio, SimCity, Echo e Farming Simulator, che hanno appunto consentito ai giocatori di gestire delle risorse, di sviluppare delle comunità sostenibili e di affrontare delle sfide per l'ambiente e anche per la società. Parlando quindi di gaming sostenibile, vediamo che oggi il gaming può educare attivamente milioni di giocatori su queste questioni ambientali e in particolare può trasmettere dei messaggi sostenibili all'interno del gioco stesso, quindi integrarli sia nelle meccaniche di gioco ma anche nei contenuti stessi, nei personaggi. E questo oggi è particolarmente visibile attraverso quelle che chiamiamo Green Activations, che permettono appunto di implementare delle azioni simboliche e anche meno simboliche a favore di queste cause. Molte aziende del settore infatti si stanno già cimentando con delle pratiche sostenibili e stanno attuando tantissime iniziative, pratiche eco-friendly nella produzione dei loro giochi. ad esempio inserendo appunto personaggi, campagne speciali all'interno dei propri giochi, ma anche riducendo in modo drastico gli imballaggi, le plastiche e i materiali inquinanti, adottando ad esempio pratiche di lavoro sostenibile, quindi incentivando lo smart working, cercando di partecipare ad eventi anche in modalità in remoto e iniziative come ad esempio il Cycle to Work. In particolare segnaliamo l'iniziativa Blame for the Planet, che ogni anno realizza una Green Game Jam chiedendo agli sviluppatori di titoli mobile di creare dei nuovi livelli di gioco che siano appunto focalizzati sui temi della sostenibilità e in particolare della sostenibilità ambientale. Cosa sono quindi queste attivazioni Green? Sono delle vere e proprie meccaniche che troviamo all'interno dei videogiochi e che sono progettate per promuovere la consapevolezza ambientale, incoraggiare comportamenti eco-friendly e supportare gli sforzi di sostenibilità. Queste possono essere quindi integrate nella narrazione dei videogiochi, nelle meccaniche o in una modalità che troviamo molto spesso oggi, cioè integrate all'interno di campagne speciali ed eventi speciali. Troviamo moltissime di queste definizioni qui, quindi ad esempio come possiamo implementare le Green Activation? Possiamo sicuramente integrare temi ambientali attraverso le trame e le missioni, quindi sviluppare delle narrazioni che si concentrino sulla conservazione ambientale, ad esempio pulire delle aree inquinate, pulire gli oceani, proteggere delle specie in via di estinzione e anche gestire risorse naturali in modo sostenibile. Possiamo farlo anche introducendo dei personaggi e delle lore specifiche all'interno dei videogiochi, quindi avendo dei personaggi rappresentati come attivisti ambientali e incorporando appunto l'atmosfera nel gaming che evidenzi un'importanza di questa conservazione ambientale. Possiamo attivare le Green Activation attraverso le meccaniche di gioco, quindi inserendo delle scelte eco-friendly da far fare al nostro giocatore, perché qual è la caratteristica del videogioco rispetto a tutti gli altri medium? Che negli altri media noi siamo degli spettatori passivi, quindi non siamo noi a portare davvero avanti la storia o a intraprendere delle azioni. Mentre nel videogioco, grazie appunto all'interattività che caratterizza il medium, sono proprio i giocatori attivamente a compiere delle scelte eco-friendly e a portarle avanti all'interno del mondo virtuale. Quindi attraverso queste activations possiamo ad esempio piantare gli alberi, ricicolare materiali o utilizzare fonti di energia rinnovabile. Possiamo ad esempio inserire degli eventi e delle campagne speciali all'interno di titoli già esistenti. Questo è molto interessante perché permette di creare solamente diciamo dei nuovi livelli di gioco e integrarli in un ambiente che è già stato creato precedentemente. Quindi organizzando eventi a tempo che si concentrino sui temi ambientali. Pensiamo ad esempio al giorno della terra o al giorno di promozione delle specie animali. Possiamo ad esempio proteggere appunto la biodiversità collaborando soprattutto con organizzazioni no profit e ambientali che si occupino proprio di questo nella vita quotidiana. Le green activation poi hanno un aspetto che le caratterizza e che è sempre legato fondamentalmente all'essenza stessa del gioco. Quindi quello di offrire ai giocatori delle ricompense e degli incentivi. Quindi le ricompense eco-friendly per la partecipazione a queste iniziative green come ad esempio oggetti speciali, skin o badge che simboleggiano appunto questa responsabilità ambientale e il contributo che hanno dato i giocatori stessi nel portare avanti queste campagne. Possiamo ovviamente anche creare delle classifiche che facciano vedere gli sforzi dei giocatori e che li premino per il loro impegno ambientale e per la competizione per una buona causa. Quali sono alcuni dei titoli che hanno rappresentato attraverso appunto queste campagne o eventi speciali i temi della sostenibilità? Qui ne riporto alcuni diciamo riporto i più famosi tra virgolette più conosciuti. Quindi vediamo che Minecraft attraverso la campagna Coral Crafters Initiative ha collaborato con The Nature Conservancy per sensibilizzare proprio sulla conservazione degli oceani e ripristinare le barriere coralline attraverso appunto attività nel gioco e donazioni che si sono ovviamente riproposte nel mondo reale. Quindi questo questo livello questa campagna è andata effettivamente a finanziare una campagna nel mondo reale portata avanti da The Nature Conservancy. troviamo Pokémon GO Sustainability Week quindi una una campagna speciale per la settimana della sostenibilità che ha chiesto ai giocatori di partecipare ad azioni eco-friendly come ad esempio piantare alberi e pulire parchi locali con ricompense nel gioco legate a queste stesse attività. Poi abbiamo Fortnite Climate Awareness Concerts che ha organizzato diversi concerti virtuali ed eventi evidenziando le problematiche del cambiamento climatico con ancora una volta i proventi di queste iniziative destinate a delle cause ambientali che quindi hanno attivamente sostenuto l'ambiente. Troviamo Angry Birds Season che ha proposto dei livelli speciali incentrati sul tema del riciclo e sulla riduzione dei rifiuti insegnando quindi ai giocatori l'importanza di queste azioni attraverso il gameplay. Qual è quindi il beneficio di attuare queste green activations all'interno del videogioco? Innanzitutto è quello di educare e di rendere consapevoli i giocatori che ripetiamo fanno parte spesso delle nuovissime generazioni quindi andiamo a parlare direttamente con un target di popolazione che possiamo davvero educare ed influenzare sull'importanza appunto della sostenibilità attraverso contenuti che siano per loro divertenti e interattivi. Questo è proprio il focus e la base di fenomeni come quelli appunto della gamification e dell'edutainment che sono ad oggi ormai ampiamente conosciuti per la loro capacità appunto di educare nuove generazioni ma anche diciamo utenti che sono più grandi. Possiamo coinvolgere una comunità favorendo un senso di appartenenza tra i giocatori che condividono ad esempio un interesse comune nella tutela ambientale. Anche qui ci sono moltissimi studi che mostrano come i videogiocatori stessi oggi siano felici di far parte di queste campagne e di promuovere un'attenzione per l'ambiente. Ovviamente anche i brand hanno un loro risvolto positivo quindi attraverso questa green activation attraverso la sostenibilità nell'interno del videogioco possono sicuramente migliorare la propria immagine e dimostrare un impegno concreto verso la responsabilità sociale e la sostenibilità. Quindi possiamo avere un impatto reale traducendo queste azioni virtuali in benefici reali all'interno appunto di partnership e donazioni a cause ambientali e a organizzazioni no profit che lavorano per sostenere la sostenibilità. Parlando di sostenibilità ovviamente ci troviamo a discutere dell'obiettivo cinque che riguarda proprio la parità di genere quindi anche per questo obiettivo ci sono oggi moltissime politiche che cercano di promuovere la diversità e l'inclusione attraverso il videogioco quindi come lo fanno? Sicuramente attraverso l'inclusione di personaggi diversificati e rappresentativi nei videogiochi e anche diciamo attivamente nella pratica aziendale cercando di creare degli ambienti di lavoro che siano più inclusivi e accoglienti per tutti i dipendenti quindi le aziende se parliamo soprattutto di multinazionali è chiaro come queste abbiano moltissime possibilità di farlo avendo dei reparti che si occupano spesso della stessa diversity e inclusion o avendoli integrati nell'ambito delle risorse umane però è importante ricordare come anche le aziende più piccole possano attuare un cambiamento in questo senso collaborando con esperti nel campo dell'inclusione e della diversità con organizzazioni no profit che si occupano appunto della diversity e della sostenibilità e promuovendo appunto delle politiche più inclusive che vadano a ripercuotersi non soltanto inserendo diciamo dei personaggi maggiormente rappresentativi ma anche cercando di incoraggiare le minoranze ad applicare nelle posizioni che sono ritenute spesso appartenenti all'ambito maschile quando parliamo di minoranze ci tengo molto a sottolineare come spesso nell'ambito del videogioco sentiamo dire che le donne sono una minoranza non è assolutamente così le donne rappresentano il 50% della società e diciamo l'industria del gaming ha avuto nel passato la pecca di non considerare assolutamente questo target che rappresenta appunto metà della popolazione e di considerarla una minoranza però non sono assolutamente una minoranza anzi non siamo una minoranza quindi sono oggi le stesse giocatrici che chiedono alle aziende di gaming di essere rappresentate di essere incluse all'interno non soltanto dei mondi virtuali ma anche di avere delle possibilità di entrare a far parte di un settore che appunto amano dove vorrebbero lavorare questo è importante da citare appunto perché se parliamo di politica di inclusione dobbiamo avere dei risvolti davvero concreti nell'interno dell'ambiente del gaming quindi partire dalle stesse aziende come possiamo farlo appunto abbiamo moltissime iniziative community driven che promuovono l'inclusività e la diversità all'interno del mondo dei videogiochi quindi inserendo appunto giocatori di diverse etnie generi orientamenti sessuali e abilità e facendo sentire più rappresentate tantissime categorie di videogiocatrici che fino a pochi anni fa si sentivano totalmente escluse dal gaming ci sono molti studi numerosi attuati ad esempio da New Zoo che hanno chiesto ai videogiocatori se si sentissero rappresentati all'interno del mondo del videogioco ed è emerso nel 70% dei casi come ad esempio le donne non si sentissero rappresentate questo fa capire come ci siano delle opportunità enormi per le aziende per parlare a una fetta di popolazione di audience che fino a quel momento non è stata considerata e titoli come ad esempio The Last of Us Part 2 The Last of Us Strange e Overwatch hanno in particolare promosso delle tematiche legate all'inclusione e alla diversità e sono state hanno avuto anche un riscontro molto positivo grazie a una rappresentazione diversificata e inclusiva dei propri personaggi oggi ci sono moltissimi altri esempi che riguardano anche titoli sportivi come NBA come i vari FIFA che presentano appunto anche le leghe femminili e le professioniste che fanno parte del settore come possiamo quindi concretamente lavorare non soltanto con le multinazionali che appunto sono più educate tra virgolette al tema della diversità dell'inclusion avendolo anche all'interno dei requisiti dei corporate sustainability reports ma come possiamo parlare e lavorare attivamente anche con le piccole imprese che comunque in Italia rappresentano la maggioranza degli studi di videogiochi questo è questa guida che vedete sullo schermo costruire un campo da gioco equo è un esempio assolutamente importante perché si tratta della guida realizzata da Women in Games sulla base dei Women's Empowerment Principles delle United Nations che promuove la parità di genere a tutti i livelli quindi non soltanto a livello di rappresentazione nei contenuti quindi nei videogiochi stessi ma nelle pratiche di recruitment nella formazione nello sviluppo professionale e anche nel lavoro quotidiano pensiamo ad esempio a come facilitare le donne che lavorano in smart working che spesso si trovano ad avere il carico domestico quindi dei lavori a casa o di dover anche badare ai bambini ovviamente bisogna anche considerare tutti questi aspetti soprattutto in un mondo in cui lo smart working ormai è molto adottato all'interno del settore del gaming la guida a costruire un campo da gioco eco ha realizzato diverse segnalazioni e ha realizzato moltissime pratiche per adottare appunto un ambiente più sostenibile in particolare con diverse sfere d'azioni cerca di sensibilizzare sui temi della sostenibilità e di parlare alle nuove generazioni e ai piccoli studi anche di sviluppatori indipendenti che ovviamente non possono considerare di avere un reparto diverse inclusion ma possono sicuramente educarsi ai temi della diversità e dell'inclusione e fare qualcosa quotidianamente all'interno della loro organizzazione quindi in conclusione il gaming ha un ruolo davvero significativo oggi nella promozione della sostenibilità e dell'inclusione permette appunto di promuovere pratiche sostenibili di promuovere la diversità e i valori della dell'inclusione e può sicuramente contribuire anche agli obiettivi dell'agenda 2030 quindi non pensiamo soltanto all'obiettivo 5 che abbiamo citato ma al complesso del Sustainable Development Goals che oggi sappiamo essere appunto fondamentali nel lavoro di moltissimi governi grazie per questa opportunità ancora grazie a tutti